In piedi campeggiatori, camperisti e campanari, mettetevi gli scarponi, oggi fa freddo. Immaginate di sentire questa frase tutte le mattine, alla stessa ora, in un loop temporale dove ogni giorno è lo stesso identico giorno. Tutto uguale, a parte voi. Impazzireste o no? È ciò che deve affrontare Bill Murray in Ricomincio da capo, cult movie diretto dal mai abbastanza compianto Harold Ramis nel 1993, con il soggetto di Danny Rubin, Ramis da vita a una delle commedie migliori della storia del cinema, un film che brilla di momenti divertenti, di interpretazioni brillanti e di una velata amarezza di sottofondo. Groundhog Day, titolo originale, è un film costruito sulle fasi del lutto, sull'assenza di futuro, sulla necessità di aprire la propria vita alle emozioni e alle relazioni, perché sia degna di essere vissuta. Spassosa, sentimentale e cinica, Ricomincio da capo è uno dei fiori all'occhiello di Ramis e Murray, una commedia iconica e agrodolce, diventata un classico imperdibile.